Una mattina mi sono alzato Oh partigiano portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Oh partigiano portami via Che mi sento di morire E se io muoio da partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E se muoio da partigiano Tu mi devi seppellir E seppellir la sua montagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E seppellir la sua montagna Sotto l'ombra di un bel clor Sotto l'ombra di un bel clor E le genti che passeranno Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E le genti che passeranno Mi diranno che bello fiore E questo fiore è un partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E questo fiore è un partigiano Morto per la libertà E questo fiore è un partigiano E questo fiore è un partigiano morto per la libertà. E questo è un partigiano morto per la libertà. E questo è un partigiano morto per la libertà. E questo è un partigiano. E questo è un partigiano morto per la pandemia. E questo è un partigiano morto per la pandemia. E questo è un partigiano morto per la situazione come la che stiamo vivendo. E questo è un partigiano morto per la più afectata. In Europa e USA abbiamo visto come il colapso dei sistemi di salute ha obligato al personal di salute a tener che optare a uno o a otro. E questo è un partigiano morto. E questo è un partigiano morto per la vita. La vita non vale nada, vale soprattutto le gananze. Ha fatto che, per esempio, non opti per chi tenga più condizioni di sobrevivere. E questo è un partigiano. ma anche i lavoratori che sono obligati a lavorare. La volta a la normalità non ha rapporto con ragioni di salute pubblica, di che se abbiano acabato i peligri. Tiene che vero esencialmente con la presione dei empresari, dei grandi gruppi economici, per che la rueda comincia a andare e recuperare le gananze che possono aver perduto in ultimi mesi. E questa è la cara più brutale del capitalismo. Perché per che uno si segui riconosciando, va a condenare a la morte a cientos di miles di lavoratori e di sectori popolari. Noi siamo completamente in contra di tutto questo. E siamo in contra di che volvano a lavorare quei lavoratori che non rispondono a problemi essenziali, a lavori essenziali. E exigiamo a i governi che garantissano il salario e le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori che non hanno bisogno di lavorare. Perché qui la presione è una presione doble sui sectori popolari. Salvi a lavorare perché se no, non cobrasi. E se sali a lavorare, te podes enfermar. Noi siamo perché se garantissano a tutti i lavoratori le condizioni di sicurezza e anche le condizioni economiche per la sua existenza. E sappiamo di dove sacare la plata. Hay che sacare la plata di i riconi, di i che si hanno riconosciato durante tutti questi anni, di i che si hanno beneficiato di i pagi della deuda, di la especulazione finanziaria, di i che hanno gananze per la base di tirare a basi i derechos, di i lavoratori che sono responsabili anche di la liquidazione dei sistemi di salute per pagare leudate externe. A loro queremos ajustare, a loro queremos descargare il peso della crisi e chiamiamo a i lavoratori del mondo a resistire questa nuova ofensiva di i governi, di i patronali, a resistire da maniera che sia, exigendone a le condizioni sindicali, le altre burocrazioni, che di di accompagnare i governi e i patronali e che fanno davvero davvero che facendo per la crisi non la paguiamo sempre le nostre, i lavoratori e i settori popolari e questa volta le pagano gli che più hanno. Mi voglio detener un minuto in la situazione di Brasil. Tutto il mondo ha visto come Bolsonaro desprecia completamente tutte le medidas tendenti a controllare la pandemia, a evitare che muerano più e più persone. Si muove con una total indiferenza per la vita humana e per questo Brasil è uno dei paesi più afectati per il coronavirus. La ragione è molto simple. Questo personaggio è arrivato al potere per difendere i interessi della grande burguesia brasilella, dei terratenienti e delle sue gananze. E, per lo tanto, da un primo momento, ha intentato che, senza nessuna condizione, i lavoratori di non di andare a loro. Trata di che la vita si sviluppa come se non passasse nulla e le conseguenze sono a la vista. Cientos di mille di infectati, decenas di mille di morti. Però la attitud di questo personaggio ha fatto che la maggioranza del popolo brasiliano le baje il pulgar e pida, a través di distinti manifestazioni, che se vanno. E sta planteando la possibilità di che questo monstro deje il poder. Se non ha caito hasta oggi, se deve, in gran parte, a la attitud di le direzioni sindicali e politiche, che, con un discurso opositor, lavorano per che la salida di Bolsonaro se dà per la via institucional. in le elezioni, per la quali falta molto tempo, perché le elezioni presidenziali sono in 2022. Però il debate di come fare per che se va a Bolsonaro è un debate che ricorre a tutte le forze politiche, e anche a la izquierda. Se ha installato nel PSOL, dove la maggioranza della direzione accompagna, lamentablemente, la strategia del PT. E anche sta più preoccupata in le elezioni municipali di questo anno e in le elezioni del 2022, che in encarare una strategia ligata a i lavoratori e a i sectori popolari per che si vanno ora. Lamentablemente, la maggioranza del PSOL trabaja per un fronte popolare con il PT. Otro sector del PSOL, anche molto importante, ha come strategia per sacare a Bolsonaro il giudizio politico a través del Parlamento. Anche ora viene fracassando, perché esa cueva di bandidos non vuole sapere nulla con sacarsi di encima a questo tipo, al cui vuole utilizzare per fare il lavoro sucio contro i lavoratori e i sectori popolari. Però questa strategia ha un altro problema, che se arriva a avere esito, permetterà che se va a Bolsonaro, però seguirà in il poder il vicepresidente hasta il 2022. E il vicepresidente è nada meno che un militare che si dice adoratore della dictatura che assolò il Brasile tra il 64 e il 85. Nosotros, desde Alternativa Socialista del Brasile, desde la LIS, lavoriamo insieme a la lucha socialista e a distinti organizzazioni che componen il bloco di izquierda per una salida completamente distinta. Impulsiamo la huelga general, il chiamato a la mobilizzazione, la exigenza a le direzioni a romper con la tregua. e anche levantiamo la necessità di che in il Brasile si vanno a un processo constituyente per che siano i lavoratori e i sectori popolari che decidano che fare con i recursos naturali, che fare con la deuda, che fare con le privatizzazioni, e non una salida electoral per elegire presidente per cambiare qualcosa per che nada cambia. In questi giorni se cumpliron 72 anni della creazione del Estado Genocida di Israel. Come tutti i anni avevano mobilizzazioni palestine che sono brutale reprimite per il ejército. Il Estado di Israel se fondò il 14 di maggio di 1948. Contò con il l'apoglio di Inglaterra, Stati Uniti e la Unione Soviética di Stalin che non solo si è stato in l'apoglio, è stato il primo che lo reconoce come stato sovrappato. Tamb'in contò con il l'apoglio di l'aboglio 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 On 5 di maggio è iniziato una이를 verso il bambino di israelità sobre la여 倍 vivono in pace. La población se fuori dal territorio. A questo momento, i giudici, i arabi, i cristiani vivivano in pazza. La popolazione judia era minoritaria in Palestina. Il 70% dei popolatori erano arabi. Questo fa per terra con la fabula che creò il sionismo di che, in realtà, Palestina era una terra senza pueblo, ideal per loro che erano un pueblo senza terra, tutto lo contrario. Come anche così è falsa la altra fabula di che avevano di affrontare in la guerra che in 1947 però che nel 1948 si trasformò in limpieza étnica la offensiva di eserciti poderosi delle nazioni arabi. Fue tutto lo contrario. Ellos si avevano armato anche i denti, grazie al imperialismo e, lamentablemente, alla Unione Sovietica di Stalin. Per lo tanto, lo che si iniziò fu una masacra contra un pueblo indefenso che non aveva nessun tipo di posibilità di resistire la brutalità della offensiva sionista. Il stato che sorgì fu un stato colonialista, proimperialista, racista, gendarme, per evitare che avance la rivoluzione nel Medio Oriente. Il plan original, firmato in Yalta e Potsdam, era che se creano due estados. Uno mayoritario, con la maggioranza dei teri fossili per il nuovo stato, genocida di Israel, e altri, in le zone più marginali per il paese palestino. Però il sionismo, che firmò questo, non aveva come obiettivo che se creare un altro stato per i palestini, ma che dal primo momento lavorò, per expulsarli completamente del territorio e quedarse, ellos, con la riqueza e tutte le terre. Da ese momento, cientos di mille di palestini avevano emigrare a i paesi vecini. E, oggi, vivono in condizioni infrahumani, in campi, che si hanno trasformato in verità città, in Líbano, in Jordania, in Siria. Lui che si stavano hanno dovuto soportare una situazione di davvero apartheid, di represione permanente, di bombardeo, di bloqueo, di acqua propria hanno e per utilizzarla hanno bisogno di aver permesso al Stato Gendarme di Israel. La guerra sucessiva che si erano, tutte impulsate per il sionismo, le permettono seguir anexando cada vez più territorio, incluso impulsando la politica di colonizzazione di loro sui proprii abitanti sui territori palestino. Esa situazione fu resistita valientemente per il paese palestino, che ha impedito incluso hasta il dia di oggi che se cumpla il plan di fondo del sionismo, che non quede un solo arabe, un solo palestino in la terra histórica di questo eroico pueblo. Intifadas, rebelioni, ha bloqueato muchas veces los planes di questo. Lamentablemente, lamentablemente il pueblo palestino non ha tenido una direzione consecuente al frente, come per seguir la pellea per recuperare su territorio. La OLP, che fu la organizazione construita in plena battaglia e che durante molti anni peleò per destruir il stato genocida di Israel e volvere a la palestina histórica hace molti anni che claudicò. Aceptò in los acuerdos di Oslo la politica del imperialismo di due estados. Politica che ha dimostrato completamente inviabile e, per questo, le ribellioni, la resistenza e le contraofensivi contrarrevolucionari di Israel hanno seguito durante tutto questo tempo. La claudicazione delle direzioni nazionalistiche ha permitito che, le direzioni islamistiche attualmente l'imperialismo a través del llamado Acuerdo del Siglo che promuove Trump con la dirigencia israelita stanno intentando ir per tutto terminar con la politica dei due estados e dedicarsi a lo che sempre fuori un stato unico racista al punto che già in sua propria constituzione il Estado di Israel habla di che solo sono ciudadanos que adhierano a sua religione. Questa politica lamentablemente empieza a essere ben vista per parte della dirigencia palestina che a lo sumo lo che reclama è che che in un Estado di Israel se abbrano più condizioni democratiche che sono condizioni questo Stato Genocida e Gendarme. La unica paz verità vendrà di la mano della construzione di un Stato laico palestino dove possano convivire tutte le religioni e tutti i popolini che durante cientos di anni convivirono così, fino a che il sionismo e l'imperialismo entrò in la regione. A continuazione, parleremo con compagni di la Liga Internacional Socialista di distinti paesi che in su momento formaron parte della Unione Sovietica che per tutti noi hanno un'importanza molto importante perché allì si desarrollò la Revoluzione di Octubre, nel 1917, il primo Stato Obrero che lamentablemente frutto di che la Revoluzione non pudo estendere a Alemane e a Europa terminò retrocedendo, se inquistò la burocracia stalinista e ese processo culminò con la restaurazione che lamentablemente tutti vivono nella década dei 90. e noi vediamo con questi compagni qual è la situazione attuale, tanto di Russia, di Ucraina, di Bielorrusia, seguite con attenzione queste interviste. Prima di prima, ci siamo a intervistare con il compagni Andrei da San Petersburgo, Russia. Ciao, Andrei. Vorrei cominciare la intervista chiedendo come ha afectato la pandemia e la crisi economica ai lavoratori e al conjunto del paese. No, in Russia, l'epidemia, 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 l'epidemia del paese, l'epidemia, l'epidemia, l'epidemia che sono più rispondente, perché hanno получato una piccola che lavorano, come dicevano, studenze e l'epidemia. Quindi, perché adesso il regime l'epidemia di attenzione per l'epidemia di attenzione la domandaria cresce la domandaria nel periodo della prossima in quanto la domandaria e la domandaria in questo caso la domandaria e la domandaria la domandaria la domandaria della domandaria e la domandaria e anche cresce il risultato di più di alcohola, perché le persone sono in casa, le persone non hanno il pieno, e quindi cresce il risultato di alcoolismo, e quindi questo è il risultato di questo risultato. che sta facendo il governo? Il sistema di salute è preparato? Ci sono mesi sociali per proteggere i lavoratori e i settori più vulnerabili? Non c'è nessuna partecipazione della città della città della città della città della città della città della città. Ok? e finalmente sono stati iniziati un mero, che ci sono stati aiutati, ma non sono stati, come per la mia, per la mia famiglia, è 125 euro per un bambino, edinovremi una proposta, e tutto, e come abbiamo ancora non ottenuto. e il suo carattimento durante il suo carattimento, ma è stato il suo carattimento per la loro ragione. Quindi a se ne prenderà la loro condividenza. Sistema di sostegno di sostegno. Sistema di sostegno del sistema di sostegno del sistema di sostegno di sostegno di sostegno. e al momento dell'epidemia si era in un buro ora le pregunto che ne soffi abbastanza medicina ne soffi abbastanza immunitarisale medicamenti molti vici ratti per esempio in Moscavida 9% del med personale deja è già corinore curamore Ci sono molte morti di medici. Quindi la sistema sanitaria non è stata pronta a quello che sta succedendo. Ci sono lutte o espressione di scontento? Come risponde il governo? L'opposizione di Napoli ha proposto la sua programma «Pять шагi per l'attivazione». Ma nessuno questa programma non supporte. La nostra programma è stata scettica a questa programma, perché Napoli ha già 3-4 anni nella politica arana, ha spiegato le idee di popolizzi. Inoltre, l'opposizione non funziona, e quindi nessuna reazione di questo non è. Quando se declarò la pandemia, Putin è stato in processo di estendere e consolidare il suo poder. Qual è la situazione attuale? In questo momento, c'è un'attività agitazione con il referendum per cambiamenti della Costituzione. C'è ovunque rafforzano bannere, rafforzano rafforzano, c'è un'attività propagandata in sociali. Ma il referendum non è rafforzano non è rafforzano, non è rafforzano. che faremo ancora più dopo il rafforzano. Quindi, il rafforzano il rafforzano di questo inizio in cui il rafforzano Grazie a tutti per la attuazione dell'opposizione a Putin. Grazie a tutti. 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 i compagni della legge che te stanno vedendo. Grazie a tutti, Anatole. Grazie a tutti.